Un saluto a tutti, sono Vincenzo Sottarossetti e bentornati su Project Zomboid. Vi avevo anticipato che lo avrei ripreso perché il gioco comunque mi piace abbastanza. E quindi eccoci qui a risfidare i numerevoli zombie presenti nella mappa. Prima di incominciare volevo fare un saluto particolare a Enigma23 e a Claudio Ricchia. Il gioco intanto si è aggiornato con numerosi patch che portano con sé anche la localizzazione alla lingua italiana. Non ci sono ancora tutti gli oggetti tradotti, alcune didascalie non lo sono ancora completamente. Comunque è un passo in avanti per la localizzazione completa in italiano. Allora, bando alle ciance. Iniziamo subito la modalità sopravvivenza. Questo era uno che ho creato per prova, naturalmente, dopo aver fatto gli aggiornamenti. Ero curiosito di vedere un po' che cosa avessero migliorato. Diamo il salvataggio a TIS. E iniziamo... Allora, vediamo un po'. Vedete qui ora, per esempio, la tedesca delle città è ancora in inglese. Questa è Small Town. Ora, non ricordo quando feci la prima... I primi gameplay, quale delle due scelsi. Vediamo un po' questa. Dai, West Point. Avanti. Allora, magari facciamo... Uomo. Il nome va benissimo. Non vorrei quello, questo lo lasciamo così, tanto per quanto possa vedersi il PG, va bene così. Allora, i tratti. Occupazione, intanto. Operaio edile. Non è male, perché cita come bonus la pelle spessa, che comunque sia... aumenta... cioè diminuisce le probabilità che graffi o morsi ci feriscano. e la manualità che costruisce più lentamente le barricate nello specifico. Vediamo un po' se c'è qualche altro tratto, perché... come vi avevo spiegato, questi punti... possiamo inserirli spendendo dei punti che è qua sopra, in alto, dei punti da spendere zero. E praticamente, per acquisire i punti, dobbiamo scegliere uno di questi tratti che ci tolgano... o aggiungano dei punti. Ad esempio, se io metto... di solito i malus sono quelli in rosso, quindi, per esempio, io metto goffo, ci dà punti da spendere uno, perché, vedete, lui ce ne aggiunge più uno. Però, abbiamo questo bonus malus, che fa... fai più rumore quando ti muovi, che non è molto... molto bello. Mi ricordo che ce n'era uno che, comunque sia, non era... poi così brutto da avere come malus, ed era... vediamo se lo trovo... testa calda, ti arrabbi facilmente, che ci dà ben quattro punti da spendere, e li utilizzerei per robusto. colpi delle armi da corpo a corpo più potenti, e peso massimo trasportabile aumentato, che è una... una buona cosa. Alla fine, testa calda... ci può pure stare, ti arrabbi facilmente, ma ecco... per tutte le volte che ho giocato io non ho mai trovato nessun tipo di NPC, non ne sono manco certo che ne esistano, quindi... mi arrabbio facilmente contro chi non... non si sa ancora. quindi... però robusto, ecco, può tornare utile... il corpo al corpo... scusate... specie nelle... prime battute... della partita, dove magari non... non siamo fortunatissimi per recuperare subito una... un'arma privaria, e gli unici... l'unica arma che abbiamo sono i nostri pugni. meglio ancora il peso massimo trasportabile aumentato, perché comunque sia si... ci si riempie abbastanza lo zaino. Quindi dai, possiamo iniziare, aspettiamo il caricamento, vedremo... vediamo un po' dove ci... ci fa spawnare... e... e... iniziamo quindi questa nuova avventura, sperando che riesca a durare un po' di più di quanto è durata l'altra, anche se... comunque non era andata male, avevo anche recuperato un bel po' di roba, avevamo iniziato anche... a coltivare, se non ricordo male, quindi comunque sia... la partita si era... ehm... abbastanza avviata... avviata bene, poi naturalmente il pericolo è sempre tutto l'angolo qui... ok, ci siamo... ehm... allora sposto un secondino questo... ehm... naturalmente l'inventario e tutta la roba qui è rimasto uguale... abbiamo dei nostri manuali di sopravvivenza che sono stati tradotti in italiano, ci da un po' di... ehm... informazioni utili, ma noi già sappiamo come... come giocare... allora, il nostro... cupazzetto, eccoci qui... siamo anche a petto nudo, giusto per non farci mancare niente, vediamo un po' di... subito di trovare qualcosa di... qualcosa di buono... ehm... le lenzuala... ok... altro anta... lenzo munizioni... ottima... e lenzuola... non so se magari qualcuno che guarda... e mi segue... ehm... ha giocato... sta giocando con quel gioco, però... per chi magari vuole iniziare a giocare... vi... ehm... vi suggerisco di rimanere... ehm... sempre aperto... questo... questo inventario... ehm... perchè è quello che... ehm... switcha in base alle cose... vedete... dove ci... dove ci avviciniamo... è molto più semplice... avendocelo sempre... ehm... aperto... perchè... adesso che ce l'abbiamo chiuso... vedete... magari ci sfugge il fatto che... possa esserci qualcosa... qui intorno... magari qui... e quindi... noi dobbiamo... necessariamente... vedete... andarlo... ad... ad aprire... tutte le volte... invece così... spuntato... è sempre aperto... è comodo... perchè lui automaticamente... in base a dove noi ci muoviamo... lui switcha... e ci fa vedere... cosa possiamo aprire... il... il loro contenuto... item... magari per l'inventario generale... che comunque... fa sempre comodo... tenere aperto... allora... qui è il... è il bagno... abbiamo sempre le lenzuola... il pettine... specchio... canneggina... che... non... non ci interessa... tutta roba... un po... inutile... non siamo stati molto... molto fortunati... spegniamo le luci... qui... e prepariamoci... ad uscire... di... da questa casa... perchè naturalmente... ah... non è una casa... si chiamano... in un albergo... sembra un motel... sembrava piccolina... per essere una... una sola... stanza... una sola casa... allora... quindi... chiediamo un po' qui... oh... ok... spegniamo anche la luce... quindi... controlliamo un po' tutte le stanze... ce ne abbiamo un po'... da controllare... cuscino... lenzuola... niente di che... per ora... il bagno... speriamo di non trovare... niente di... che ci possa attaccare... insomma... niente... niente di pericoloso... sto... cercando di girarmi... un po' tutti... vediamo un po'... un pet... un cuscino... le vitamine... vitamine... felicità... più due... mmm... riducono la stanchezza... vabbè... usiamole... le brutte... le... abbiamo... abbiamo... rasoio... ma... niente... niente di che... non c'è proprio niente... qui nel comodino... spengo tutte le luci... perché... è meglio non farsi vedere... facciamoci questo lato... e poi andiamo dall'alto... vediamo di... di recuperare qualcosa di buono... magari anche se... mi sembra che... sia un po' tutto uguale... il... topo morto... dentifricio... eh... quello che c'è all'interno delle stanze... è un po' tutto simile... invece a noi serve qualcosa di più... magari... anche perché... ecco... intanto qui già sento... che stanno cercando di entrare... ora non vorrei che siano nel... fede nuziale... addirittura nell'armadio... qui dentro al bagno... quindi io direi di farmi... i fatti miei... portafogli... anche se... sembra... provenire dalla porta principale... della... del motel... che non apriremo... naturalmente... ci facciamo il giro anche di quest'altre stanze... collana... zaino tracking... ottimo... lo mettiamo subito sulla schiena... buono... così abbiamo già... un po' più di... di cose... spostiamo... tutta la roba che abbiamo preso... nello zaino... cosa c'è? bocca asciutta... ok... lo zaino è un buon acquisto... è comodo... vediamo... vediamo... hanno anche inserito gli effetti sonori... eh... prima non... non c'erano... il fatto di bere... il rubinetto... eccetera... molto... molto carino ora... dicevo... lo zaino è comodo... è comodo... perché... comunque sia... aumenta notevolmente gli slot... qui ce ne abbiamo un altro di zaino... però che ha la capienza... sedici... no... capienza quindici... il nostro da tracking è... venti... quindi... stiamo a posto... attenzione... ci hanno visto... deve riuscire subito... prima che questa magari... vada... a rompere il vetro... e le camere che danno sulla strada... un po'... attenzione... ecco le delle altre... è un po' un casotto... perché comunque sia... attira... spegni qua... ok... attirano i zombie che possono... tentare di... di rompere il vetro... per quindi entrare... non trovo... nulla di che... diciamo... a parte lo zaino... ecco... però comunque sia... mi servirebbe anche delle... un'arma primaria o... qualcosa del genere... non abbiamo trovato ancora nulla... vediamo un po'... qui in cucina... ah... possiamo sicuramente trovare qualcosa... coltello al burro... la pentola... la scodella... le pentole... mmm... se non ricordo male... possono servire... per cucinare qualcosa... ora... non... non ricordo... però... una... la prendiamo per sicurezza... perché... mi sembra che... la cioccolata... così... almeno... se abbiamo fame... eh... possiamo anche accendere il microonde... il caffè... cortello da burro... lievito... mazza... la roba... zuppa... in scatola... però non abbiamo l'apri scatole... quindi non ci possiamo fare niente... sale... ancora la pentola... nebulizzatore da giardino... addirittura... in cucina... boh... vabbè... e... niente di che... prendiamo un po' la roba... invece che c'è dentro... al... al frigorifero... a parte la cotoletta di maiale... che va cotta... e quindi... ehm... dovrebbe essere cotta... insomma... comunque magari vediamo... ecco... l'ho sentito del vetro... quindi sicuramente sono entrati... in una delle stanze... fatemi chiudere un secondo qui... cerchiamo di rallentarli... quanto più possibile... ah... cavolo... già c'è la luce... qui non c'è... niente... faccio un altro giro... qui... nella reception... tutto pieno di sangue... non c'è assolutamente niente... un sacco di spazzatura... spazzatura... spegniamo... vediamo un po' qua... se c'è qualcosa... i fiammiferi possono far comodo... che cacchio era? che sono? annoiando... eh... che vuoi? che vuoi? che facciamo una festa ora? stiamo... un post apocalittico zombie... e... ho leggermente fame... prendiamo l'acqua... sì... l'acqua... l'anguria... ne mangiamo metà... ok... sgranocchia... bene... ok... stiamo a posto... allora... vediamo un po'... visto che c'è qualcosa di interessante da ste parti... queste penne... ho sentito dell'altro... gli altri vedi rompersi... qui che cos'è? al bagno... dentifricio buttato... non c'è... assolutamente niente... che possa servirmi... quindi direi che... devo necessariamente... cambiare zona... cambiare zona... e... fatemi vedere un po'... allargando la mappa... come... come funziona... allora davanti... ho qualcosa... wow... 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 ma l'ho già visto... davanti... ho un super market... più un fottio di zombie... ma veramente è un casino... cerchiamo di... andare da quest'altra parte... anche se... il nascere direttamente nella città... non è sempre una buona idea... perché comunque sia... è piena... zeppa di zombie... ma non so se c'era anche prima l'animazione della carminata... in diagonale quasi... buh... vabbè... questo... è un cantiere... sembra... che però non mi fa vedere la staccionata... perché non me la fa vedere? eh... this... uh... troppi zombie... troppi zombie... troppi zombie... troppi zombie... troppi zombie... troppi zombie... via 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 via... eccolo... non voglio correre... perché altrimenti... faccio ancora più rumore... vediamo se andando verso su... mmm... verso nord... non riusciamo magari a fare... a fare qualcosa... purtroppo qui nel motel... vedete infatti sotto... al motel le... le finestre sono... sono state rotte... quindi... ora le stanze non sono... molto sicure... allora... qua ci sono... degli zombie... una cifra... vediamo un po' nel food market... anche perché qui... è stato già rotto... il vetro... quindi... di sicuro... uva... c'è... c'è un bel po' da mangiare... naturalmente... food marker... mmm... 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 infatti... cavolo... mele... forno... si forno... ok... si... c'è veramente un sacco di roba... però non voglio riempirmi lo zaino di... di roba da mangiare... assolutamente... allora... vediamo un po'... accendino... se non ricordo male... avevo preso i fiammiferi... si... però l'accendino potrebbe essere meglio... la rivista... la prendiamo... giusto per... non... annoiarci troppo... vediamo se c'è qualche altro... le cartucce per il fucile... buone... peccato... non abbiamo... non lo abbiamo il fucile... ci fosse anche il fucile... qua dentro... saremo a cavallo... non c'è... però ci sono... spegniamo le luci che fa sempre... buono... là c'è... uno zombie sta cercando di... di entrare... vediamo un po' qui... eh... dai... qui c'è una porta... ok... ah... attenzione... sento che vogliono entrare... cavolo... niente... vediamo un po' su... sparate non pentirmene... wow... un po' buio... un po' buio... oh cacchio... no... magari no... mamma mia... brutta idea andare sopra... oh quanti libri... i libri sono comodi perché... pesca... principiante... cavolo... mi servo un'arma primaria... assolutamente... qui che c'è... un'altra camera... fighissimo... sto... sto... supermarket... aveva casa e bottega... pillole per insonio... le scarpe... la gonna... non ci faccio niente... chiudi tende... chiudi tende... chiudi tende... anzi no... aspettate... la gonna... posso... ehm... prendere... ah no... presi i calzini... e... tecnicamente... posso... ehm... no... non si possono fare gli stracci... ecco le... ripsheets... ok... dove viene ammessi? in quello principale... naturalmente... ecco li qua... lasciamoli qui... dai... anguria ce l'abbiamo qui... va bene... ehm... almeno abbiamo delle... non sono stracci... sono delle... delle bende per curarsi... che fanno sempre... anche alla... sono entrati... hanno fatto brecciare... il trombatorione... no... sono un coglionbero... ho sbagliato... scusate... e invece... di me ti credendo... ho rotto la finestra... e mi sono anche fatto male... la mano... che genio... sto sanguinando... certo... perché ho rotto la... un'occhina benda... ahahah... sono proprio deciso... boom... ahahah... eh scusate... ho sbagliato tasto... eee... naturalmente... non c'è niente... vediamo se c'è qualche altra cosa qui... non voglio assolutamente... accendere le luci... qui ci sono dei fornelli... cartucce... ancora per il fucile... che... ne abbiamo un casino... ma... secondo me c'è un bel... comitato di benvenuto... una volta che... che cazzo sono queste emunizioni... 223... un sacco di emunizioni... ma a me servirebbero anche qualcosa... per spararle... queste emunizioni... un sacco... la batteria... una bottiglia d'acqua... questa è comoda... sta calando anche la notte... mi dispiace se magari... la visibilità ora è un po'... limitata... ma quello che vedete voi... vedo anch'io... si sta annoiando... ah... sono nato... vedete quindi di metterci... in una di queste stanzette... quelle sono le 21 e 20... qua è tutto chiuso... dormiamo... e speriamo che... i zombie magari... e quanti ne so... sentite... le percussioni ora... non stanno bussando... a parte il tempo è accelerato... quindi naturalmente... si sente molto... più accelerato... ok... sono le 4 e 50 di mattina... loro stanno ancora bussando... come se non ci fossero domani... e io sono... costretto ad uscire da quella parte... naturalmente... e sarà un bel casino... vediamo un po'... vai... entrate... non c'è nessuno... non c'è nessuno... sono tutti qua dentro... e io non entrerò là dentro... naturalmente... accendiamo sta luce... qua non si vede niente... allora qui... sono tutte le cose per uscire... vediamo un po' se c'è qualcosa qui... ok... si... c'è... c'è anche qui... certo... e qui... qui si... però è ancora lontano... c'è una sola... vediamo se magari riesco... oh... allora iniziamo a fare sul serio... adesso iniziamo a fare sul serio... finalmente abbiamo un'ascia... le prendo entrambe... le... le prendo entrambi ho detto... eh no... non ho spazio... vabbè questa la mettiamo qua... sei andata? grazie signor zombie... impugna con due mani... allora... l'ascia è comoda... è comoda perché... uno... beh... è un'arma... primaria... scatola di chiodi... sega... e quanta roba... spago... buono... è una ferramenta questa... non è... eh... aspetta... perché sono spaventato? impaurito... c'è nessuno? allora... aspettate un secondo... perché devo fare un po' di... di posto... questa la lasciamo... la pentola... eh... mangiamo... si si... mangiamo subito una mela... questo faccio posto... anche per questo... allora... la sega sicuramente mi servirà... eh... scatola di viti... scatola di chiodi... sicuramente per costruire... mi manca un martello... eh... con soltanto la sega... non ci faccio niente... cioè... ci faccio... perché posso... ehm... tagliare... i... gli alberi... che... abbatto con l'ascia... quindi... attenzione... ago... rete da pesca... al stago... se vede che lei... non so... l'ho ancora l'utilizzo di tutti gli oggetti... uno lo trova... un ago... non è che potrebbe servire a qualcosa... si... boh... forse... poi magari... ti serve... e dici... calla... dove era l'ago... cacciavite... colla... filo... qua è tutta roba che... tecnicamente può servire per costruire... o... riparare... vediamo se magari posso togliere qualcosa... vediamo un po'... le vitamine... per esempio... prendi pillole... impastecchiamoci di vitamine... giusto per... aumentarci un po' lo spazio... e... se no... per ora devo desistere... non prendere nulla... lasciamo qui... vediamo la roba che c'è in giro... cacciavite... eh... la... c'è un po' di... eccolo il martello... eccolo... eccolo... questo lo prendo sicuro... che quel martello... ora mi dovrebbe... se lo piazzo però dall'altra parte... lo devo mettere qui... sbloccare il nuovo menu... eccolo qui... costruisce... c'è ancora un po' di problemini... nel... nel menu... porta di legno... vedete... comunque sia... ora... ho la possibilità di costruire... e... vediamo un po'... wall... e il muro di legno... mi servono tre... di... un qualcosa... credo... di staccionate... molto molto comodo... allora io direi di... eh... cercare di... questo... ce lo teniamo... spero... ancora un'ascia lì... eh... dobbiamo cercare di... ricordarci... un'altra ascia... attenzione... attrezzatura... da pesca... addirittura... lo scotch... tutta roba che può servire... come vi ho detto... specie se... uno si vuole... riparare... le cose... le cose... scatola di viti... che sicuramente servirà... vediamo un po' se ce la fa ancora prendere... qui... il bancone possiamo... ascia... colla... colla per il legno addirittura... cavo... è un sacco... veramente un sacco di roba... un altro martello addirittura... ancora un altro... mazza... ho la miniera d'orio... veramente... questo qui... ricordiamocelo... eh... più che altro mi servirebbe una zona... dove poter creare un po' la... la mia casa... questo però ragazzi... lo vedremo... al prossimo appuntamento... anche perchè... se no... mi dilungo troppo... i video vengono troppo lunghi... io come sempre... vi ringrazio della visione... se volete essere salutati... basta che me lo scrivete... nei commenti... magari... non... nel video proprio subito... dopo... perchè... se riesco a ne registro... di fila... eh... però comunque sia... o qui... o magari... in un video di Minecraft... verrete sicuramente salutati... non... non vi preoccupate... io come sempre... vi ringrazio della visione... se vi è piaciuto il video... magari... un bel mi piace... così... mi aiutate... mi tirate un po' di su... sul morale... e quindi... ci vediamo... al prossimo appuntamento... con Project Zonbide... ciao ciao...